Buongiorno a tutti, mi chiami Silvia Tirelle e sono studiante di gestione del turismo culturale e dei eventi dell'Università di Udin. In questo mese ho fatto un tirocinio a Cadi Crea, ho conosciuto Crea con un post su Facebook e ho seguito di fare questa esperienza. In questo mese ho fatto vivere queste attività di uffici e ho seguito i progetti di Crea. Ho trovato davvero interessante poter seguire il DBC in questo mondo. Mi ha colpito l'energia e la passione che Federica e Elena e Federica hanno messo in questo lavoro e che di sicuro mi darà ispirazione. Un domani vorrei poter lavorare nell'ambito del turismo culturale e vorrei in qualche maniera poter valorizzare i nostri territori e tutto quello che io farei. Mandi!